Musica Fermato dalla Polizia Municipale, l'extracomunitario che si lavava i piedi nella fontana del Tritone. Processo cobra 67, 26 condanne e 19 assoluzioni. Mercatino abusivo in via Ferdinando I, multati 110 ambulanti, la Cidec annuncia ricorso. Salus Festival, screening gratuiti per la glicemia e la pressione. E questa mattina convegno sul tema l'infermiere del territorio. E sempre a Caltanissetta ha fatto tappa il tour della vista, screening gratuiti. Arrestato perché non si presenta a firmare in commissariato. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. La Polizia Municipale ha fermato l'extracomunitario che si lavava i piedi dentro la fontana domenica scorsa. E ieri lunedì ne ha combinata un'altra. Nel pomeriggio di ieri lunedì 19 ottobre è stato fermato dalla Polizia Municipale un extracomunitario che, ubriaco, rompeva bottiglie e urinava all'aperto in piazza Garibaldi a Caltanissetta. Si tratta della stessa persona, filmata domenica, che si lavava i piedi e si divertiva a farsi foto dentro la fontana del Tritone. La lavanda dei piedi dell'immigrato africano, racchiusa in un video della durata di un minuto e 58 secondi, sta facendo il giro dei social network e indignando i nisseni, che si sono scatenati alla vista di uno straniero che in pieno giorno e con grande nonchalance si è arrampicato sulla fontana del Tritone, monumento simbolo di Caltanissetta, per sciacquarsi i piedi sotto il getto d'acqua spruzzato da uno dei mostri della vasca. La presenza dell'africano non è passata inosservata agli occhi di alcune persone che hanno deciso di riprendere con i telefonini le gesta del giovane immigrato. Processo Cobra 67, 26 condanne e 19 assoluzioni particolari. Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato 26 dei 45 imputati nel maxiprocesso scaturito dalle operazioni anticrimine Cobra 67, Figaro e Giro di Vite, che sgominarono due presunte bande che gestivano lo spaccio di droga, mettevano a segno furti, rapine e attentati incendiari, e imponevano buttafuori ai titolari di una discoteca. Pene severe quelle combinate dal collegio giudicante, presieduto da Antonio Napoli con allatere i giudici Alex Costanza e Claudio Emanuele Bencivini, che di contro ha assolto da ogni accusa altri 19 imputati e scagionato alcuni condannati da singoli capi di imputazione. L'inchiesta si avvalsa anche delle dichiarazioni di uno dei principali spacciatori, Elia Di Gati, giudicato nel processo stralcio, che si è pentito e ha accusato i suoi complici. Le pene più pesanti sono state inflitte ai fratelli Vincenzo, Ivan e Fabio Ferrara, accusati di aver trafficato cocaina e hashish a Caltanissetta con l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. Vincenzo, ritenuto un affiliato alla mafia, è stato condannato a 30 anni di reclusione. I suoi fratelli a 18 anni ciascuno. Ecco le altre condanne nel dettaglio. Manuel Mosca, 16 anni e 7 mesi. Alfredo Maffi, 6 anni. Luigi Minnella, 6 anni e 2 mesi. Giovanni Di Girolamo, detto Castrenze, 4 anni, 7 mesi e 5.000 euro di multa. Umberto Gnotta, 8 mesi e 2.000 euro di multa. Francesco Fiandaca, detto Pantani, 12 anni. Fausto Gaspare Dell'Utri, 2 anni. Nunzio Di Stefano, 14 anni e 6 mesi. Marianna Ventura, 10 anni. Davide Livecchi, 2 anni. Raimondo Alletto, 2 anni e un mese. Borino Michele Cusenza, 3 anni. Carlo Sanfilippo, 8 anni e 1.500 euro di multa. Maurizio Giudici, 10 anni e 1.500 euro di multa. Antonino Giudici, 8 anni e 11 mesi e 1.500 euro di multa. Nicola Amico, 10 mesi e 1.500 euro di multa. Giovanni Germano Paladino, 11 anni e 28.000 euro di multa. Claudio Candura, 8 anni e 30.000 euro di multa. Giuseppe Ferrara, 1 anno e 6 mesi e 4.000 euro di multa. Fabio Celestri, 9 anni e 4 mesi e 30.000 euro di multa. Elia Giardina, 6 anni e 2 mesi e 16.000 euro di multa. Davide Palermo, 23 anni e 9 mesi. Luana Scarlata, 12 anni. Il Tribunale, inoltre, ha assolto diversi imputati. Francesco Abbate, perché il fatto non sussiste. Raimondo Alletto, da un capo d'accusa, per non avere commesso il fatto. Michelangelo Botta, perché il fatto non sussiste. Maurizio Fabio Buscemi e Salvatore Samparisi, per non avere commesso il fatto. Claudio Candura, da un capo d'accusa, perché il fatto non sussiste. Fabio Danilo Cavallaro, perché il fatto non sussiste. Fausto Gaspare Dell'Utri e Umberto Niotta, da un capo d'accusa, per non avere commesso il fatto. Francesco Fiandaca, da sei capi di imputazione, per non avere commesso il fatto. Giuseppe Gelsomino, perché il fatto non sussiste. Antonino Giudici, da un reato, perché il fatto non sussiste. Borino Cusenza, Davide Livecchi e Raimondo Alletto, per un incendio messo a segno nella notte, tra il 9 e il 10 aprile 2010, per non avere commesso il fatto. Borino Michele Cusenza, per un altro capo d'accusa. Fabrizio Alfonso Liotta, perché il fatto non sussiste. Giuseppe Lombardo, Francesco Antonio Napolitano e Francesco Zappia, da un capo d'accusa, perché il fatto non sussiste. Alfredo Maffi, per un reato, perché il fatto non sussiste. Luigi Minnella, da due reati, per non avere commesso il fatto. Manuel Mosca, da tre imputazioni, per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. Gianluca Diego Muratore, perché il fatto non sussiste. Davide Palermo, da un episodio, perché il fatto non sussiste. Giuseppe Palermo, perché il fatto non sussiste. Ivan Palermo, da due accuse, perché il fatto non sussiste. I fratelli Alfredo e Mirko Palmeri, da due accuse, per non avere commesso il fatto. Mirko Palmeri e Cristo Ferriggio, da un'accusa, per non avere commesso il fatto. Luigi Palmisano, da un'accusa, perché il fatto non sussiste. Giovanni Germano Paladino, da un episodio, perché il fatto non sussiste. Angelo Panebianco, perché il fatto non sussiste. Carlo Salvatore Sanfilippo, da tre episodi, perché il fatto non sussiste. Maurizio Emanuele Santoro, da due accuse, perché il fatto non sussiste. Le pene restano sospese soltanto nei confronti di Davide Livecchi, Nicola Salvatore Amico e Giuseppe Ferrara. I giudici, inoltre, hanno dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per le posizioni di Ivan Vincenzo Gaspare Scarpulla, per un episodio, Michele Iacona per un'accusa e per Angelo Sferrazza, disponendo la trasmissione degli atti nuovamente alla procura. I magistrati della Didi Anissena, Santo Di Stefano e Giovanni Di Leo avevano chiesto la condanna per 36 imputati, appene che oscillavano tra otto mesi e trent'anni di reclusione, oltre a dieci assoluzioni piene. Multati 110 ambulanti del mercato settimanale. La Cidec annuncia ricorso. Multe per 110 ambulanti che lo scorso 3 ottobre hanno allestito le bancarelle del mercatino di via Ferdinando I a Caltanissetta. Ma c'è già chi è pronto a contestare le sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Municipale, per un importo di 309 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e vendita non autorizzata. L'allestimento abusivo, secondo il Comune, nasce dalla mancata autorizzazione degli ambulanti, in quanto la giornata di sabato era stata concessa ai giustrai che avevano posticipato la presenza nel piazzale di Pian del Lago, a causa del maltempo dei giorni precedenti. Ma l'esercito degli ambulanti, in assenza di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione, decise di sistemare gli stand nella zona di Piano Geraci, dove il Comune aveva precedentemente allocato la vendita temporanea. Eppure gli ambulanti multati contestano le multe, ritenendole illegittime in quanto manca l'atto di sospensione. A farsi portavoce di questo braccio di ferro è il presidente provinciale della Cidec, Carmelo Milazzo, secondo il quale gli ambulanti non sono stati avvisati nei tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti della sospensione del mercatino del sabato. La Cidec, intanto, ha organizzato una riunione per mercoledì sera per affrontare la questione con gli ambulanti. Salus Festival, screening gratuiti per la glicemia e la pressione. Nell'ambito del Salus Festival, nei locali del Comune, in Piazza Garibaldi, l'Associazione Diabetici Caltanissetta sta effettuando degli screening gratuiti. Controllate la glicemia ma anche la pressione. In che orari la gente può arrivare qui? Noi dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio, verso le 7 così, diciamo 19 dai, facciamo questi controlli gratuitamente. Prevenzione significa aiutare le persone a non spendere anche soldi per noi stessi perché con la prevenzione si risparmia tanto. Se c'è problema si va a risolvere, se non c'è problema niente, andiamo tranquillamente tutti. Noi risparmiamo tanti soldi? Abbondantemente. E' importante quindi prevenire qualsiasi patologia a qualsiasi età, quindi invitiamo tutti a venire qui. I cittadini, siamo qua noi a disposizione per il controllo, sempre ripeto, sia della glicemia che anche della pressione. Poi siamo tanti stand e stiamo in collaborazione anche dei farmacisti, diciamo pure questo, perché i giovani farmacisti si stanno interessando pure dei problemi. e la sezione diritto del malato con Lorenzo Lococo, per esempio, si sta dando anche a mano. Siamo presenti noi perché vogliamo migliorare la nostra vita ed è importantissimo. Aiutiamoci tutti. Se ci aiutiamo tutti, andiamo tutti bene. Noi siamo presenti anche presso l'Asli, di Via Malta, e facciamo anche la prevenzione là. Aiutiamo un po' anche le persone che hanno bisogno, anche di un piccolo consiglio, lo aiutiamo pure. Innanzitutto dobbiamo pulire per bene un dito, poi mettere un aghetto in un apparecchietto, fare un buchetto invisibile, poi prendiamo poco poco di sangue e dopo 30 secondi ci darà l'esito. Quindi un risultato immediato? Un risultato immediato. Ne abbiamo trovati in questo periodo, abbiamo trovato tante persone che non sapevano di essere diabetici. E li abbiamo scoperti e li abbiamo indirizzati in maniera di potersi aiutare. Addirittura una persona aveva 380, 380 e assai, e li abbiamo mandati in ospedale per cercare di aiutarsi. E di questi ce ne sono parecchi che non sanno di essere diabetici. E noi stiamo dalla mattina alla sera a fare questi interventi proprio per aiutare soprattutto queste persone. E sempre nell'ambito del Salus Festival si è tenuto questa mattina un convegno sul tema, l'infermiere del territorio. Nell'ambito del Salus Festival, questa mattina nel Palazzo dell'Università Moncada, si tiene il convegno l'infermiere e territorio. Quanto è importante il ruolo dell'infermiere oggi e viene valorizzato abbastanza? Il ruolo dell'infermiere è molto importante oggigiorno e infatti stamattina abbiamo tenuto all'interno di questo Salus Festival un convegno per parlare proprio dell'infermiere e il territorio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tiene bene a mente i bisogni assistenziali che oggigiorno ci sono di una popolazione sempre più anziana con malattie croniche associato a coniugare questo tipo di assistenza nel territorio nel risparmio perché come ben sappiamo, specialmente in Italia, ci sta battendo sulla sanità una spend review, la chiamano così che in poche parole significa proprio una riduzione dei tagli e dei fondi per la sanità. La nostra provincia è una di quelle che in Sicilia sta subendo più delle altre di questi tagli. Questo avrà una ripercussione su tutto il territorio nazionale e in modo particolare per i cronici, per quegli tipi di pazienti che hanno necessità di un'assistenza continua. Infatti dicevo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità tra i 21 obiettivi che si è prefissato individua per l'infermiere l'infermiere di famiglia o di territorio o di comunità. Non ha importanza il nome che a esso viene dato, l'importante il ruolo che viene dato a questa figura di poter assistere i pazienti nel proprio domicilio perché tutti sanno che è una convalescenza, o una riabilitazione, chiaramente fatta proprio a domicilio, ha un'altra valenza rispetto a quella che viene fatta in un ambito ospedaliero o in una struttura residenziale o semiresidenziale. Pertanto questa figura è importantissima perché lavora proprio a stretto contatto non solo del paziente ma anche della famiglia, affinché possa riabilitare quando è più possibile la persona, l'anziano, a contatto con l'equipe multidisciplinare all'interno del quale fa parte non solo il medico di famiglia ma fa parte l'assistenza sociale, il fisioterapista o altre figure che lavorano in questo contesto. Per cui noi da molti anni portiamo avanti questo discorso affinché a livello regionale possa essere portata avanti una convenzione tra infermieri o libero professionisti o infermieri dipendenti che possano assolvere a questo incarico assistenziale. Ma quindi a Caltanissetta questi ambulatori infermieristici pubblici esistono? La gente lo deve sapere? Sì, diciamo questi ambulatori infermieristici è bello quello che lei sta dicendo perché non c'è ancora una cultura civica di quello che il territorio offre. Effettivamente bisognerebbe un po' sensibilizzare la popolazione all'interno del Salus Festival noi intendiamo proprio valorizzare questa figura dell'infermiere. Esistono gli ambulatori infermieristici, l'ASP di Caltanissetta ne ha diramati diversi nel territorio, quello di bacino del territorio gestito dal dottore Labbaglia praticamente è qui a Caltanissetta in via Marta dove ad oggi i dati che io ho alla mano circa 500 persone hanno soffrito delle nostre prestazioni. Il tour della vista, due le tappe del camper in Sicilia, una a Caltanissetta, screening gratuiti. Tour della vista, ottobre 2015, vediamoci in giro. Il camper l'anno scorso ha girato il Nord Italia, adesso il Sud Italia, due tappe sole in Sicilia, 20 e 21 ottobre Caltanissetta. Quanto è importante la prevenzione perché voi fate degli screening oculistici gratuiti? Sì, buongiorno intanzitutto. La prevenzione è la parte centrale del tour, praticamente solo con la prevenzione si può arrivare ad avere per tempo un risultato ottimale sia visivo, cioè visivo. Che tipo di screening è stato effettuato? Facciamo degli screening con alcuni strumenti messi a disposizione dalle aziende SILOR e Topcon. La Commissione di Difesa Vista ha fatto questo tour anche per incentivare la popolazione, anche in assenza di sintomi, di pensare di dover fare uno screening ed eventualmente se si trova un'anomalia visiva, vedere un po' di risolvere il problema per tempo, quindi subito. È importante specificare che fate degli screening molto importanti che a pagamento sono anche costosi? Sì, in ottobre è il mese della vista, Federottica, quindi la maggior parte degli ottici facciamo lo screening visivo gratuito, ma nel tour della vista naturalmente pure gratuito e siamo coadiuvati anche dalla parte oculistica, quindi ci sono alcuni oculisti che ci supportano dalla parte medica. Siete in Piazza della Repubblica, come detto oggi e domani, la gente può venire qui, non c'è bisogno di prenotarsi, si fa la fila e si può fare il co-screening. Esatto, sì, non c'è bisogno di prenotarsi, non c'è bisogno, cioè non si paga nulla, tempo materiale di fare lo screening visivo, la parte anche medica, e poi hanno un risponso, una cartellina dove c'è segnato se devono approfondire ulteriormente le visite oppure va bene così. Quali sono gli orari? Gli orari sono dalle 10 alle 19, quindi oggi e domani dalle 10 alle 19 aspettiamo la maggior parte delle persone che riterranno opportuno pensare alla prevenzione visiva. Disfunzioni nell'avvio del servizio di refezione scolastica interviene l'amministrazione comunale di Caltanissetta. Il riferimento ai disservizi avvenuti all'avvio del servizio di refezione scolastica l'amministrazione comunale si rammarica per quanto è accaduto e si scusa con tutti coloro che hanno subito le disfunzioni assicurando nel contempo tutti gli utenti che gli uffici competenti hanno già preso gli opportuni provvedimenti affinché questi fatti spiacevoli non si ripetano. L'amministrazione tiene a precisare che nell'emore dell'espletamento e dell'aggiudicazione della nuova gara d'appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica si è ritenuto opportuno al fine di evitare un eccessivo slittamento dell'avvio della mensa procedere con una proroga tecnica nei confronti della ditta che ha eseguito il servizio lo scorso anno cioè l'associazione temporanea di imprese è composta dalle ditte Blue Cop di Agrigento Ristorazione Collettiva di Racalmuto e Mattana SRL di Raffadali. La determina dirigenziale con la quale è stato prorogato il servizio di refezione scolastica fino a dicembre 2015 può essere visionata all'albopretorio del sito web del comune di Caltanissetta. La direzione politiche sociali e sociosanitarie guidata dall'assessore del comune di Caltanissetta Pietro Cavaleri comunica che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni dei bambini dai tre mesi ai tre anni presso gli asili nido comunali di Santa Petronilla, via Ettore Romagnoli, Santa Barbara, colai anni via degli orti. Gli stampati per le iscrizioni oltre che dal sito internet del comune sono disponibili presso lo sportello della direzione affari sociali in via Pugliesi e le sedi degli asili nido. Gli interessati dovranno compilare la domanda e l'autocertificazione in ogni parte. Arrestato perché non si presenta a firmare in commissariato. Gli uomini del commissariato di Niscemi diretti dal vicequestore aggiunto Gabriele Presti hanno tratto e stato d'arresto Giacomo Zaffarana, 25 anni, nisce mese, perché colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, come aggravamento all'obbligo di presentazione giornaliera in commissariato a cui era sottoposto. Misura ripetutamente violata. In conseguenza di un arresto lo scorso giugno perché sorpresso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E in particolare di un panetto di circa 100 grammi di hashish nascosto nell'autovettura a bordo della quale viaggiava. Nonché presso la sua abitazione di un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Ed è stato arrestato un sorvegliato speciale. Gli uomini del commissariato di Niscemi, diretti dal vicequestore aggiunto Gabriele Presti, hanno denunciato e stato di arresto un pregiudicato nisce mese, Emanuele Fidone, 55 anni, con pregiudizi di polizia per reati inerenti il patrimonio, perché è ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Gela, cui risulta sottoposto. In quanto è stato sorpreso a guidare nel centro di Niscemi. È stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di chiavi e grimaldelli. Diffondevano contenuti per i tv senza licenza. Cinque denunciati dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Mazzarino durante la serata di domenica 18 ottobre hanno effettuato una serie di controlli ad esercizi pubblici nel centro del paese. Durante i controlli agli esercizi pubblici si abbarcha associazioni sportive. I militari hanno riscontrato, con l'ausilio di personale ispettivo di una nota pay tv, la diffusione abusiva dei segnali di contenuti a pagamento, soprattutto di natura sportiva. Gli esercenti, senza aver concluso un contratto di diffusione al pubblico di tipo commerciale, trasmettevano i contenuti pay dai teleschermi la partita Inter-Juventus, attirando molti avventori nei locali e alterando anche il regime di concorrenza con gli esercenti che sottoscrivono contratti molto onerosi per diffondere legittimamente i programmi. Per i cinque gestori dei locali è scattato il deferimento e stato di libertà alla Procura della Repubblica e il sequestro di decoder e smart card. E adesso parliamo di salute. Chi mangia acido invecchia prima. I cibi consumati dalla maggior parte della popolazione mondiale sono acidificanti. Dalle carni ai formaggi alle bevande, soprattutto quelle gassate o dolcificate. Sono alimenti che sporcano il sangue, portando a un invecchiamento precoce e predisponendo a malattie come obesità e diabete. Il segreto per evitare di vivere male sta, insomma, nella dieta alcalina, ne è convinto Robert Young, microbiologo e naturopata. Secondo Young, il nostro pH corporeo deve essere sempre in omeostasi, equilibrio acido-base. E la dieta alcalina o alcalinizzante considera il pH del sangue in particolare, che deve rimanere leggermente alcalino. È quindi davvero molto importante concentrarci su cibi più basici, come ad esempio gli spinaci o il sedano. Sono molti gli alimenti che dobbiamo evitare. Formaggi, carni, fra cui anche manzo e pollo, cibi e bevande. E anche per oggi abbiamo concluso. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, che oggi vi parlerà della Finlandia, miglior paese per le mamme e i figli. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. Nord Europa in testa nella classifica stilata da Save the Children dei paesi in cui le condizioni economiche, politiche e sanitarie garantiscono il benessere alle mamme e ai loro figli. Sono infatti Finlandia, Norvegia e Svezia che si aggiudicano il podio della quindicesima edizione del rapporto dell'Organizzazione Internazionale Indipendente. A seguire troviamo l'Islanda, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Spagna, la Germania, l'Australia e il Belgio. Per l'Italia comunque buone notizie. Il nostro paese risale dal diciassettesimo all'undicesimo posto. Un cambiamento dovuto sostanzialmente all'aumento della presenza delle donne al governo. Nel bel paese le condizioni di salute delle mamme e dei bambini si mantengono a livelli alti. Nell'Africa subsahariana troviamo invece i paesi che si collocano in fondo alla classifica. In coda la Somalia, preceduta dalla Repubblica Democratica del Congo e a pari merito da Niger e Mali.